è una giornata importante ma è anche una giornata di festa è la festa degli alberi nelle scuole la 23esima festa degli alberi nelle scuole poi Alfonso Pegoraro Scania, presidente della Fondazione Verde ce ne ricorderà meglio la genesi è un percorso che si è solidificato nel tempo quindi ripeto, è una giornata di festa è giusto avere il sorriso però è anche una giornata per riflette è una giornata di confronto importante con tanti ospiti illustri uso un tono che magari vi arriva di più vi entra di più perché è un confronto high level direbbero quelli bravi non solo per il livello delle persone che oggi ascolteremo ma anche perché il momento lo necessita siamo in una fase, come sapete da un punto di vista del contrasto ai cambiamenti climatici se vogliamo di stasi aspettiamo questa COP28 c'è molti ragionamenti in essere sul tema delle energie ne ascolteremo anche oggi di ragionamento rispetto a questo c'è il tema degli incendi, boschini di tutto quello che il percorso climatico che stiamo vivendo sta generando non voglio rubare altro tempo ricordo che oggi è importante avere insieme a voi ragazzi anche la presenza di autorità religiose oltre che militari e civili perché oggi sappiamo che si apre il sinodo a Roma e quindi attendiamo peraltro con grande interesse quello che sarà lo scritto del Santo Padre con la Laudate Deum stasera peraltro ci sarà questa iniziativa sarà divulgata e commentata in 14 librerie italiane contemporaneamente quindi insomma ci aspettiamo una lettura importante che vale per tutti al di là dell'essere cristiani dell'essere cattolici ma con un approccio rispetto alla vita al creato, all'ambiente dove noi siamo immersi dove noi viviamo non solo di rispetto ma anche di condivisione del problema direi io di affrontare insieme al pianeta il problema che noi stessi abbiamo generato quindi non rubo altro tempo e prima di dare la parola al Presidente ricordo ovviamente che questa iniziativa è promossa da Fondazione Univerde della Società Geografica Italiana dalla Rete Nazionale degli Istituti Agrari e da Renatur e prima di dare la parola agli ospiti do lettura del messaggio che ci è arrivato il bel messaggio che ci è arrivato dalla senatrice Liliana Segre che oltre a salutare le autorità e a rivolgervi un saluto particolare a voi ragazzi e ragazzi delle scuole e ricordando l'importanza anche delle autorità che sono presenti in una società geografica l'ho detto le fondazioni e associazioni agricole e ambientaliste la Rete degli Istituti Agrari per il Turismo ma anche autorità di pubblica sicurezza esponenti di confessioni religiose abbiamo peraltro qui seduto in prima fila il nuovo comandante del CUFA che ha avuto modo peraltro di conoscere nei giorni scorsi in una conversazione che abbiamo avuto estremamente importante secondo me per capire come proseguire in un'azione importante che da questo centro, dal suo osservatorio ci dice e ci ricorda la senatrice Segre purtroppo da almeno due secoli la tenuta e la sostenibilità ecologica del pianeta sono sempre più arrepentaglio la ricerca di una nuova economia di nuove relazioni internazionali di una nuova sensibilità civile e politica sono perciò premesse indispensabili per assicurare un futuro alla nostra terra e al genere umano la festa degli alberi è importante proprio per questo perché promuove la sensibilità ambientale sin dalle scuole offre alle ragazze e ai ragazzi che abiteranno il mondo di domani la possibilità di formarsi una coscienza critica, informata e responsabile vi abbraccia ci abbraccia e vi abbraccia soprattutto a voi ragazzi idealmente un saluto a tutti e un buon lavoro in questa giornata quindi dico un applauso io lascerei la parola Alfonso al presidente al professor Claudio Cerreti presidente della società geografica italiana che ci ospita come io lo dico sempre in questa sede meravigliosa e quindi oltre ad avere un approccio estetico che non guasta insomma l'aspetto contenutistico del lavoro della società geografica e soprattutto del contesto che stiamo per rappresentare mi sembra importante definirlo con le sue parole a lei professore la parola grazie buongiorno a tutti ben arrivati ben trovati mi fa piacere che riprenda questa costitudine di avere scolaresche e ragazzi in visita alla società geografica non tanto e non soltanto perché è la società geografica e quindi questo ci offre l'occasione di parlare di geografia di ambiente di comunicazione delle conoscenze relative alla vita sulla terra ma anche perché questo è un bel posto e la cosa non guasta appunto per il resto preferisco lasciar parlare le persone più direttamente coinvolte nell'organizzazione non che la società geografica non lo sia ma l'iniziativa muove da altre sponde che noi abbiamo ovviamente accolto molto molto volentieri una parola soltanto sulla festa degli alberi che sì certo è ripartita ormai da un poco più di 20 anni però ricordo come ho già fatto a suo tempo ma perché è un ricordo mio personale al quale sono anche affezionato che una festa degli alberi esisteva mi pare dal 1898 96 insomma alla fine dell'ottocento ed è stata regolarmente praticata io da scolaro degli elementari forse anche delle medie adesso non ricordo ricordo sicuramente partecipato a due tre occasioni in cui effettivamente si andava da qualche parte in un prato in un parco a piantare degli alberi questo perché lo ricordo intanto perché mi faceva piacere e poi a un certo punto l'ho persa di vista infatti praticamente era scomparsa e grazie all'allora ministro Pecoraro Scani è stata reistituita in altre forme con un'altra intenzione se vogliamo ma comunque reistituita perché l'avere inventato 130 anni fa grosso modo una festa degli alberi tema su cui si è poi tornati con tutta una serie di iniziative nel corso degli anni 10 del 920 del 930 del 900 cioè roba di 100 e passa anni fa segnala che già allora erano evidenti certi problemi di tenuta dell'ambiente in particolare dal punto di vista della copertura forestale ma non soltanto anche dei regimi idrici cioè del controllo dei corsi d'acqua piccoli e grandi di cui abbiamo visto ancora recentemente le capacità distruttive queste cose si sapevano si sapevano si studiavano si cercava di intervenire e per oggi ci troviamo con un ambiente pesantemente compromesso nonostante tutto e con l'impressione con l'impressione sbagliata ma molto radicata che i problemi ambientali siano nati oggi massimo ieri non è vero erano nati già prima prima del presunto probabile cambiamento climatico erano diversi si sono aggravati hanno cambiato modalità ma esistevano già prima cioè nonostante la consapevolezza ambientale e l'atteggiamento il comportamento della popolazione come delle classi dirigenti non è stato all'altezza del problema datevi una regolata perché da adesso in poi anzi già ora il problema è soprattutto vostro intendo voi ragazzi molto più che il nostro che siamo ormai abbiamo fatto il nostro giro o quasi ok buona giornata a tutti grazie grazie al professor cerreti allora ventitresima festa degli alberi nelle scuole nel giorno di san francesco definito da tanti un ribelle obbediente no e e soprattutto un architrave un architrave sulla quale si è appoggiata se vogliamo anche la tenuta della chiesa in un momento estremamente complesso uno degli architravi si è ricostruito un percorso ecco quell'eredità ovviamente non è un convegno su san francesco questo però alfonso pecoraro scanio incardinare la giornata la festa degli alberi nelle scuole in questa giornata ha un senso ha un senso importante al di là del senso religioso e soprattutto come ricordava anche il professor cerreti è un qualcosa di cui si è sempre sentito bisogno si è sentito bisogno da tempo poi è stato istituzionalizzato raccontiamo ancora un po' come è nata la festa degli alberi scuole cosa rappresenta oggi e quale messaggio possiamo lanciare soprattutto alle giovani generazioni poi a te la parola so che tu puoi costruirci il tuo ragionamento in maniera del tutto autonomo e indipendente come giusto che sia però la parola al presidente della fondazione Univerdi di Alfonso di Alfonso Pecora Roscani grazie grazie a Gianni Todino che mi ha autorizzato a essere libero nel costruire il mio intervento quindi io ringrazio e ovviamente saluto soprattutto i ragazzi e saluto anche le docenti in particolare donne poi ci sono anche i docenti uomini però le docenti donne in genere nel nostro sistema di istruzione sono il vero motore di molti cambiamenti io tra l'altro devo dire che nella mia funzione di ministro dell'agricoltura all'epoca che fu la funzione il momento in cui io conobbi società geografica perché veni qua a presentare l'Atlante dell'agricoltura italiana e io sono sempre stato appassionato di geografie e di storia fin da ragazzino i migliori voti li prendevo in storia e geografia quindi devo dire ero contento di vedere società geografica anche se io mi sono lavorato in legge ho fatto l'avvocato però la mia passione è stata la geografia come capacità di conoscere del territorio di dove ti puoi mi sono piaciute sempre le carte geografiche qua ce ne sono tante quando ero ministro mi regalavano perché dissi una volta in un'intervista che mi piacevano gli attlanti storici mi abbuffavano gli attlanti storici e quindi alla fine ho detto vabbè però le ho pure regalati alcuni perché erano poi i doppioni e quindi io amo la geografia e credo che tra l'altro la geografia ci dà il segno di dove ci troviamo nel mondo ci dà il modo di sapere dove siamo collocati e mai come in questo momento la geografia avendo anche l'Italia finalmente devo dire essendo l'Italia tornata ad essere un paese multietnico perché l'impero romano era multietnico e imperatori sono venuti dall'Africa quindi se imperatori romani erano provenienti dall'Africa non ci sorprendiamo che l'Italia finalmente diventi intelligentemente multietnica poi dobbiamo capire se lo facciamo bene e devo dire che questo che c'entra con la festa degli alberi perché parlavo prima con l'imam e anche nella tradizione islamica l'albero è importante per non parlare nella tradizione ebraica quando sono stati in Israele le prime cose da fare si piantavano sempre alberi in segno da qualche parte quindi oltre che nella tradizione cattolica e cristiana di San Francesco ovviamente l'attenzione agli alberi ma anche nelle altre regioni non dimentichiamoci che la buddità la raggiunge sotto un albero che nella cultura hinduista ci sono gli alberi ma perché è normale gli alberi sono la vita e sono tra l'altro gli esseri più longevi della terra gli alberi hanno anche mille anni noi abbiamo un olivastro in Sardegna che ha 3000 anni ed è uno degli alberi più vecchi al mondo quindi sono i veri patriarchi vegetali di questo pianeta quindi hanno questo questo importante ruolo e dobbiamo prendercene cura allora perché nel 2000 allora io in realtà poiché sono cresciuto a Salerno tra l'altro in una parrocchia francescana quindi San Francesco comunque mi mi affascinava poi con tutto il rispetto del vescovo e del della come dire della parte diocesana della chiesa che è fondamentale però a me i monasteri francescani e benedettini pure mi portavano sempre un fascino particolare perché hanno sempre collocati tra l'altro in luogo io stavo in una parrocchia di città quindi niente a che vedere e poiché stavo in una città nelle città già era stata abbandonata un po' la tradizione della festa degli alberi perché in realtà era quando io sono diventato quando io ero giovane già forse si faceva in alcuni posti più di campagna nei piccoli centri nella mia città già non c'era più allora quando sono stato ministro dell'agricoltura pensai che era giusto reintrodurre questa che era una tradizione bella legata al giorno di San Francesco e preparai un decreto interministeriale che firmò il ministro Tullio De Mauro uno dei più grandi linguisti italiani che all'epoca era il mio collega ministro dell'istruzione e mi ricordo che lo facevamo in agosto e decidemmo due giorni perché infatti la festa degli alberi nei scuoli si fa in due giorni San Francesco che è il 4 di ottobre e San Benedetto che è anche la festa della primavera che è il 21 di marzo quindi anche allora erano più o meno i due giorni che si usavano perché uno era l'inizio dell'autunno sostanzialmente perché il 4 è anche poi adesso fa caldo il cambiamento climatico forse l'autunno non so quando finì quando inizia veramente però è un'ottobrata romana che era il fatto è un po' più calda devo dire che ero a Milano ieri perché ho iniziato i miei corsi all'università Bicocca e c'era anche l'ottobrata milanese cioè a Milano facevo 28 gradi quindi i milanesi dicevano i milanesi dicevano abbiamo l'ottobrata pure a Milano perché chiaramente fa caldo in tutta Italia allora la festa l'abbiamo reintrodotta per dare uno stimolo uno stimolo alle scuole italiane e fare in modo che le nostre scuole potessero riprendere questa tradizione in questi 20 anni sono stati prendati decine di migliaia di alberi quindi è una cosa positiva è una cosa bella oggi ovviamente questa cosa ha un valore in più voi vedete che non c'è accordo internazionale in cui non si parla non c'è un accordo internazionale in cui non si parla del tema di piantare alberi un miliardo di alberi cento miliardi di alberi rendete conto che per fare tutto questo noi abbiamo un'esigenza per piantare gli alberi bisogna avere i vivai per fare le piantine perché sennò quando tu dici pianto gli alberi e non hai costruito la premessa non pianti niente e lo sanno bene gli amici della forestale che vengono da un'antica tradizione vivaistica eccetera e io credo che noi abbiamo il dovere di costruire una filiera che permetta di creare prima le piante e prima andare negli alberi perché altrimenti non facciamo un buon lavoro quindi è molto importante quello che vogliamo fare gli alberi hanno anche un'altra funzione lo sa bene l'assessora all'ambiente gli alberi abbassano la temperatura e le nostre città possono abbassare di 5, 6, 7 gradi e poiché noi andiamo siamo di fronte a un cambiamento climatico che già c'è quindi il cambiamento climatico che già c'è è in atto il clima è cambiato è cambiato non è che cambierà quindi rispetto al clima che è cambiato dobbiamo fare la prima cosa si chiama adattamento cioè dobbiamo fare in modo che prendiamo delle misure che sono relativi al fatto che dobbiamo cercare di vivere bene o al meglio diciamo così nonostante che il clima è cambiato una di queste cose è alberare al massimo le nostre città per abbassare il livello delle temperature che rischiano di essere durante l'estate i 40 gradi per noi potrebbero diventare una cosa che si raggiunge più normalmente mentre prima erano 1, 2, 3 giorni adesso può essere una settimana 2 settimane e quello rende disastrosa la condizione soprattutto delle persone più anziane ma di tutti perché impatta molto molti pensano che il fatto che la temperatura cambi di 2-3 gradi a livello mondiale è poco guardate ma se voi avete 37 di febbre o 40 cambia o no? vi sembra che 3 gradi sono pochi allora io credo che uno con 36 e mezzo sta bene con 39 e mezzo fisso muore né più né meno quindi noi dobbiamo tenere bassa la temperatura del pianeta per evitare che non inalzi di più si fa tutto quello che avete sentito quando si dice non usiamo i combustibili fossili usiamo le rinnovabili quello serve per evitare che arrivi a 40 gradi va bene la temperatura corporea diciamo così non quella del pianeta quello che dobbiamo fare adesso è l'adattamento nell'adattamento gli alberi gli alberi hanno un ruolo anche nella mitigazione perché assorbono CO2 e danno ossigeno quindi comunque fanno questo lavoro però hanno un grande ruolo anche nell'adattamento perché abbassano la temperatura e rendono più vivibili le città e anche le nostre scuole quindi io vi ringrazio di essere tutti qui ringrazio il generale ovviamente ringrazio abbiamo voluto è stato un suggerimento molto bello del direttore della fondazione le tre autorità religiose il vescovo di Montefiascone che è particolarmente attento a questi temi e ci dirà qualcosa dell'encica di Papa Francesco che non so se c'ha qualche elemento no 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 qualcosa dell'encica tanto fra poco va al sinodo e quindi l'abbiamo l'abbiamo rapito l'abbiamo rapito ringrazio l'imam ringrazio il rappresentante dell'ufficio rabbinico è molto importante questo io avevo fatto una proposta alcuni l'hanno accolta spero che possa diventare anche con le due reti la rete degli studi agrari dell'amica Patrizia e la rete che dobbiamo costruire sempre più degli studi turistici la capacità di prendiamo l'abitudine alla festa il 4 ma anche il 21 marzo di leggere dei pezzi dell'enciclica nelle scuole italiane non è una cosa che offende credo il pluralismo religioso assolutamente perché è una enciclica che volutamente è rivolta a credenti e non credenti quindi è una un'innovazione da un punto di vista dell'enciclo l'enciclo in genere rivolte ai credenti così come un'innovazione credo che ci sia un aggiornamento dell'enciclica con una credo esortazione apostolica mi sembra tecnicamente perché qua sono tutte le procedure di Santa Madre Chiesa sono complesse però sicuramente l'aggiornamento è un bel segnale anche alla politica perché la politica mondiale ancora ferma gli accordi di Parigi del 2015 che nemmeno sono realizzati ma poiché la crisi climatica è andata molto più veloce probabilmente anche a livello mondiale un aggiornamento di quali sono gli obiettivi e quali sono gli strumenti per evitare che la crisi diventi catastrofica è importante quindi io vi ringrazio tutti e pianteremo questo bellissimo leccio che tra l'altro è stato realizzato è stato scelto d'intesa col servizio Giardini con l'assessorato perché la pianta sia autoctona perché ci siano tutte le procedure giuste io sono un fautore delle piante autoctone pensate chiudo con questo mio ricordo io da ragazzo a vent'anni venticinque anni feci l'assessore al verde pubblico della mia città che è Salerno perché ancora è una città ricca e bella e poi sono diventato deputato di Napoli sono diventato salernitano napoletano un caso raro perché in genere si fanno concorrenze io come assessore al verde pubblico riuscì a obbligare il segretario del partito comunista che era Enzo De Luca all'epoca che avete conosciuto perché il presidente era Campania che non ne voleva sapere a fare la pedonalizzazione del corso e decisi di alberarlo pretesi stiamo parlando degli anni 80 figura fine anni 80 pretesi di mettere piante autoctone già questo sembrava stanno perché a Salerno volevano le palme perché loro erano abituati a avere sempre queste palme io dicevo le piante autoctone andammo chiamammo i vivai per sapere avere il carrubbo l'olivo però non esisteva a livello stradale quindi io non me ne ero accorto andai al comune e vedevo questi gli assessori gli altri assessori che urlavano dicono hanno messo e fraule urlavano in dialetto quindi cosa che vi lascio perdere perché che succede quelli non avevano trovate le piante alte avevano messo delle piante così piccole in mezzo al corso il corbezzo chiaramente erano ridicole quindi dovemmo cambiare quelle piante le andammo a mettere in un'altra parte e alla fine riuscì a ottenere l'arancio amaro il quercus ilex gli olivi misi anche dei cespugli di lavanda eccetera ma li rubarono subito perché si rimisero negli armadi per per perché quando amministri le città non è una cosa così semplice però devo dire il resto sono riusciti a resistere e abbiamo dimostrato che con le piante autoctone si potevano fare delle bellissime alberature ovviamente appena io poi sono diventato deputato sono venuto a Roma 5-6 palme le hanno messe comunque perché la fissazione loro è che volevano le palme perché le palme poi si sono ammalate e quindi forse sono più resistenti le specie autoctone che non le piante che prendiamo altrove questo lo dico anche al marchese presidente della Cordiretti provinciale che ci lavorano molti di Roma anzi la Cordiretti di Roma credo che pure sono molto attenti sul tema del ripaese grazie moltissime grazie grazie Alfonso Pecoraro Scania allora intanto volevo ricordare proprio partendo dall'inizio del tuo intervento che domani è la giornata mondiale degli insegnanti quindi insomma passiamo la pala la festa degli alberi domani fate gli auguri allora proseguiamo secondo ordine chiedo solamente di condensare un po' gli interventi perché credo che il generale e l'assessore hanno impegni concomitanti in agenda quindi però seguiamo seguiamo l'ordine perché abbiamo comunque qualche minuto di tempo allora a proposito di insegnanti ricordando che questa manifestazione viene in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado di Roma Cristoforo Colombo il Mamiani e il Sereni non sto a ricordare le varie serie ricorderanno poi i vari interventi io darei la parola a Patrizia Marini presidente dell'associazione nazionale degli istituti agrari e soprattutto dirigente scolastico appunto dell'ITA Sereni di Roma facciamo un intervento magari un primo giro un po' più asciutto così poi riusciamo a dare spazi a chi purtroppo per agenda ci deve lasciare grazie innanzitutto volevo salutare gli eminenti ospiti qui presenti perché quest'anno veramente questa festa degli alberi organizzato da anni e va a merito all'amico Pecoraro Scaneo che da tanti anni segue con passione questa festa è particolarmente ricca con tanti volti e con tanti anime consentitemi però di ringraziare i nostri ragazzi che sono qui i nostri ragazzi e i loro docenti e a loro va la nostra maggiore attenzione in una giornata come questa perché noi dobbiamo creare un clima nuovo a scuola un clima nuovo di educazione quella che viene definita la nuova sensibilità ecosistemica noi leggiamo ovviamente l'enciclica l'abbiamo letta nel passato nella dovuta maniera e con i dovuti opportuni e le dovute modalità anche perché voi sapete che le scuole sono multietniche e c'è una particolare attenzione da parte dei ragazzi facciamo in modo che i ragazzi acquisiscano questa sensibilità anche attraverso non solo la partecipazione ad attività aziendali che sono proprie degli istituti agrari ma andiamo diffondendo il verbo anche nelle scuole medie e negli istituti comprensivi perché è lì che il seme va portato è lì che il seme può crescere bisogna educare i piccoli per avere dei cittadini del domani che siano sempre più sensibili San Francesco era un uomo speciale un grande uomo che da nobile qual era vendette tutto per darsi al popolo e la sua poesia il suo amore per madre terra è ancora adesso palpabile tutti noi conosciamo l'amore che aveva San Francesco e che ha distribuito a tutti dai più ricchi ai più poveri ma con particolare attenzione ai più poveri la scelta della location di Villa Celimontana è sicuramente forse la scelta più adeguata e non lo dico perché sono qui a fianco al presidente ma questa villa rappresenta nella sua location una struttura unica nel suo genere in tutto il mondo e quindi l'assessore all'agricoltura qui presente del comune di Roma che conosco e che saluto con affetto dovrebbe fare maggiori attività in un luogo del genere perché racchiude questo luogo una magia particolare la regione Lazio l'anno scorso lanciò un progetto molto bello che si chiamava ossigeno scusate ossigeno permetteva di piantare nelle scuole fino a 50 60 mila alberi per istituto che ne facevano richiesta è stato un passo importante per innalzare le quote di ossigeno all'interno della nostra città un saluto particolare anche a tutti gli ospiti in particolar modo alla forestale e carabinieri del nucleo della forestale che sono molto vicini alle scuole per la loro azione che hanno costante perché ricordiamo che noi abbiamo un obiettivo che è quello dell'agenda 2030 per cui la sostenibilità è il fulcro principale quindi non vorrei andare oltre perché il tempo mi è detto che è molto poco a nome della rete nazionale composta da oltre 290 istituti a voi tutti un caro saluto e un buon lavoro grazie grazie a Patrizia Marini nel frattempo salutiamo saluto la senatrice De Pedis che ci ha raggiunto grazie senatrice di essere qui con noi in questa giornata importante e chiedo la stessa capacità di sintesi sono io scostumato però me lo devo permettere il mio ruolo di moderatore a Maria Chiara Gallerani delegato della rete nazionale degli istituti per il turismo e dirigente scolastico dell'istituto Colombo ecco peraltro l'istituto Colombo ha alcune caratteristiche importanti dal punto di vista multiettine quindi è un elemento è anche una pietra di confronto rispetto a questi temi su tutte queste temi quindi ringraziare per l'ospitalità in questa splendida villa parco con una biodiversità così ricca sottolineo che questa ventitresima edizione della festa degli alberi è l'opportunità l'impegno dell'istituto Colombo nell'educare i giovani alla conoscenza al rispetto e alla cura dei beni naturalistici comuni e come diceva prima nella nostra scuola che oltre istituto per il turismo e anche liceo linguistico turismo sportivo eccetera abbiamo convivono felicemente direi oltre 50 nazionalità di studenti di culture e religioni diverse questa realtà è terreno favorevole al dialogo alla cultura dell'inclusione del rispetto per gli altri e per l'ambiente in cui viviamo noi abbiamo un approccio culturale aperto e razionale basato su conoscenze valori e competenze da praticare ogni giorno stimolando comportamenti responsabili fra cui la tutela dell'ecosistema urbano ci agevola sicuramente la posizione in cui è inserita la nostra scuola nella centralissima via Panisperna e questo favorisce un'educazione all'ambiente che parte proprio dal contesto storico-artistico in cui abbiamo la fortuna di essere inseriti e quindi le uscite sul territorio le lezioni all'aperto la possibilità di raggiungere a piedi mete molto particolari e interessanti per le nostre uscite favoriscono una didattica esperienziale che lascia un segno indelebile negli studenti e contribuisce a formare i cittadini consapevoli di domani porto qui oggi anche i saluti della presidente della Renatur di cui il Colombo è socio fondatore e che esiste fin dal 2004 forse ha bisogno di essere come diceva il nostro amico Pecoraro Scano rinverdita proprio perché le finalità della Renatur sono quelle di sostegno tra istituzioni scolastiche enti del territorio e protagonisti sia del mondo della cultura che del lavoro per l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso la diffusione di una cultura della qualità gli istituti tecnici per il turismo infatti hanno un ruolo chiave per la qualità dell'accoglienza turistica c'è una grande richiesta di figure professionali capaci di rendere fruibili le risorse del territorio e di padroneggiare il settore turistico gestendone la complessità e le trasformazioni in un'ottica sostenibile quindi rinnovo il ringraziamento ai ragazzi a tutti e spero di avere queste bellissime professionalità che sono presenti qua oggi nella nostra scuola dove tra l'altro prestissimo i ragazzi non noi i ragazzi stanno organizzando il festival delle culture e quindi qua veniva la passione grazie a tutti grazie ringraziamo Maria Chiara Gallerani allora io inviterei a salire qui al al podio il generale di corpo d'armata Andrea Rispoli comandante dell'unità forestale ambientale agroalimentare dell'arma i carabinieri il cufa generale alcuni interventi hanno sottolineato la necessità di alimentare un clima nuovo io direi in senso sia letterale perché il clima deve avere un clima diverso rispetto a quello che stiamo vivendo ma anche pedagogico e culturale ecco l'azione dell'arma è innanzitutto un'azione di tutela legale diciamo del nostro patrimonio ambientale forestale di biodiversità eccetera però è anche insomma un esempio un modello un punto di riferimento per le giovani generazioni a lei la parola grazie grazie per noi è un momento importante quindi ringrazio l'organizzatore Alfonso Pecorario Scanio che ci dà la possibilità di salire su questa tribuna e a parlare a tanti studenti mantenendone l'attenzione perché l'abilità è di riuscirli a fare stare attenti allora io mi permetto di dire due cose innanzitutto ringrazio si è parlato di carabinieri forestali ecco io sono il comandante di una grande unità complessa e parlare di carabinieri forestali è importante perché è collegato alla festa dell'albero che qui abbiamo il fondatore ho anche la data ce la siamo segnata il 4 agosto del 2000 4 agosto del 2000 ecco parlare di carabinieri forestali è limitativo perché i carabinieri hanno la competenza in materia forestale ambientale e agroalimentare quindi la tutela di tantissimi macro settori che sono fondamentali per la nostra sicurezza per il nostro ambiente per anche il nostro benessere perché oggigiorno parliamo di economie circolari e quando parliamo di agroalimentare controlliamo che tutto quello che andiamo a comprare ad esempio al supermarket abbia avuto quella produzione diciamo regolare io ho un lungo intervento lo sintetizzo lo sintetizzo anche raccogliendo gli input che mi sono giunti dagli oratori che si sono alternati oltre a salutare gli studenti un primo elemento mi è sembrato di cogliere che il tempo è scaduto il tempo è scaduto e quindi tutto quello che c'è da fare in settore dell'ambiente va fatto perché questo pianeta noi ce l'abbiamo in prestito per le future generazioni e quindi ci dobbiamo tutti quanti sforzare di dare questo di consegnare questo benessere ai futuri utilizzatori abbiamo parlato anche di emissioni ricordiamo che i carabinieri forestali hanno il controllo del serbatoio di CO2 cioè di quello che fanno l'inventario nazionale delle foreste e sulla base di questo inventario nazionale sappiamo la capacità di assorbire assorbire tra virgolette lo sporco che viene prodotto e quindi noi anche attraverso collaborazioni con università straniere facciamo degli algoritmi dei calcoli adesso sono molto complicati però che servono a calcolare l'impronta carbonica di un evento cioè quanto si sporca a seguito ad esempio magari di un di un evento e possiamo poi mettere a dimora piante per ristabilire gli ecosistemi che sono così così importante per quanto riguarda la nostra funzione è importante perché oggigiorno si parla di paesaggio e il paesaggio non è altro che l'incontro tra natura e azione dell'uomo e quindi l'azione dell'uomo deve essere improntata alla legalità e noi attraverso in tutti i nostri comandi facciamo questa educazione ambientale rivolta ai giovani perché l'educazione è lo strumento migliore per prevenire per formare il cittadino donna o uomo del domani come gli insegnanti permettono in condizioni di garantire la biodiversità e gli ecosistemi sono strutture importanti però vediamo certe volte quando piove molto in modo fuori anomalo forse derivato anche dai cambiamenti climatici è importante che poi il territorio venga adeguatamente manutenzionato perché la manutenzione degli argini la manutenzione delle infrastrutture evitare ad esempio che se piove fortemente una biomassa si vada a incastrare sotto un ponte con tutte le conseguenze che ci stanno che vengono naturalmente è un'azione importante per quanto riguarda è un settore molto importante perché e qui lo diciamo a carattere generale naturalmente ha anche una visione ultranazionale perché è un settore dove ci possono essere appetiti di organizzazioni criminali che hanno interesse magari a trasformare sostanze che poi non sono state ripulite e poi vengono utilizzate come fertilizzanti con grandi guadagni e con danno che viene fatto a quella che è la produzione quella che è la produzione nazionale quindi la capacità di penetrazione investigativa dell'arma dei carabinieri vi assicuro in cooperazione con l'autorità giudiziaria con le altre forze di polizia beh non esistono attori unici nel sin in mondi complessi in mondi complessi gli attori svolgono un'azione diciamo interdisciplinare come siamo qua come siamo qua in questo momento è importante perché attraverso l'azione dei carabinieri del comando Cufo facciamo anche la prevenzione e l'attività investigativa nell'antincendio l'estate è appena passata e abbiamo si sono allestiti sistemi diciamo satellitari fatti di droni che ci consentono di leggere il territorio e di circoscrivere le aree di intervento facilitare anche l'attività investigativa quando parliamo di educazione noi ai giovani che vengono e invito tutti gli studenti e anche gli insegnanti a organizzare i diversi centri della biodiversità che sono molto molto importanti e sono veramente delle esperienze uniche attraverso le tre C della condivisione della cultura e della consapevolezza perché attraverso questa capacità di diffondere una cultura che viene percepita effettivamente attraverso lo sviluppo della cultura perché senza cultura come senza l'irrigazione la crescita intellettuale spirituale delle persone si complica e poi attraverso la cultura abbiamo la consapevolezza di svolgere al meglio queste funzioni l'arma dei carabinieri prima di questo comparto faceva polizia di pubblica sicurezza e faceva polizia giudiziaria adesso qui abbiamo il comandante della regione che apparteneva già al corpo forestale dello Stato è stata una condivisione di valori quindi ci siamo trovati a fare anche polizia ambientale nelle diverse declinazioni della polizia idraulica forestale ecco il contrasto degli abusi edilizi e tante altre cose che purtroppo non caratterizzano sempre positivamente il territorio quindi è stata un'occasione di incontro con gli studenti spero che si possano anche ripetere in futuro e ringrazio altamente tutti gli organi io purtroppo devo andare a un altro incontro quindi chiedo scusa però lasciamo una nostra rappresentante e quindi meglio di così dato che citava le donne insegnanti noi lasciamo la donna comandante di regione generale quindi siamo in linea con le tue con le tue indicazioni io chiedo scusa ma io sono in fuga sì sì no ma io mi permetto di ringraziare particolarmente il generale perché mi aveva comunicato questa sua difficoltà ma ha voluto essere presente comunque e poi devo dire la generale credo si dica così non lo so Gagliardi è un'amica storica nostra e poi possiamo anche dire che il Cufa è credo l'unico corpo che abbia dei generali donne attualmente giusto quindi possiamo dire che anche questo è una novità vedi ragazzi sono contenti e stanno a provare sono tutte le ragazze perché qualcuna vuole diventare generale così facciamo anche pubblicità facciamo anche pubblicità perché quando vengono da noi giovani volentieri abbiamo la possibilità questi sono lavori che si fanno lo dico se c'è una grossa carica deontologica come tutti i lavori del resto sono tutti importanti sono tutti fondamentali al di là dei generali e dei gradi però quando c'è carica deontologica quando c'è motivazione sin da giovani secondo me si può fare qualcosa perché è un lavoro di relazione con il pubblico e di applicazione della legge secondo il buonsenso parola sacra che ti consente di sbagliare meno quando disgraziatamente non conosci le norme nello specifico va bene grazie grazie a tutti poi devo dire che io scherzando con una chiosa ho detto che nella storia non ci sono mai state donne generali che abbiano fatto colpi di stato quindi sono sempre le migliori perché le donne sono corrette va bene allora salutiamo salutiamo il generale rispoli grazie grazie sicuramente generali donne generali donne ne abbiamo avuti assessori donne ne abbiamo avuti fortunatamente quindi per cui io chiamerei Sabrina Alfonso assessore all'ambiente agricoltura di Roma Capitale qui al ma no non cambiamo non cambiamo abbiamo deciso anche per temi organizzativi e non mi spiegarsi sul tema delle donne ragazzi ragazzi attenzione allora assessore anche il assessora anche il generale ricordava ricordava giustamente il tema del terzo che ha la stessa ricordava il territorio già citato territorio ecco poi il territorio dove si concretizzano le azioni in suo caso di prevenzione e anche diciamo di promozioni anche di valori diversi valori importanti eccetera per quanto vi riguarda ovviamente è un tema di gestione un tema importante di gestione parliamo di alberi il patrimonio boschivo del comune di Roma è molto importante insomma tra positività e criticità insomma è una città grande una città con un grande territorio che ospita eventi importanti è votata anche alla presenza quindi manutentare tutto quello che è possibile non solo per chi ci vive ma anche per chi poi questa è una città che fa del turismo anche della sua bellezza una delle leve economiche principali ecco nello spazio proprio per portarci dentro questa ricchezza questa ricchezza del comune di Roma è come il comune la gestisce o ha piani per il futuro per gestire sempre meglio grazie a lei la parola sì grazie intanto permettetemi di ringraziare Alfonso Pergolario Scano e con lui Tullio De Mauro perché devo dire che sono stati due ministri lungimiranti nel creare la festa dell'albero nelle scuole oggi capiamo il significato sono 23 anni ma l'importanza degli alberi oggi è fondamentale ci sono stati degli accenni che io riprenderò e che sono appunto fanno capire quanto gli alberi sono veramente vita e poi questa casualità di tre istituti appunto il Sereni dove noi svolgiamo la conferenza agricola della città di Roma Roma è un terzo agricola un terzo verde un terzo costruita questo non lo sa nessuno ma questi due terzi saranno veramente la salvezza di questa città se una metropoli può diventare una metropoli sostenibile questa è Roma proprio per questa sua estensione per questo suo verde quindi stiamo facendo anche con la rete degli istituti agrari un grandissimo lavoro proprio sull'agricoltura in città e poi il Mamiani il Mamiani è la mia scuola io sono Mamianina faccio parte anche dell'associazione degli ex alunni un istituto dove abbiamo piantato con Alfonso Alberi in questi anni e penso che guardate noi abbiamo due temi le isole di calore si sviluppano principalmente nel centro della città e nella periferia est la periferia est perché è la periferia più inquinata dove noi abbiamo maggiori isole di calore dove l'amministrazione sta puntando proprio sulla riforestazione importante anche con i soldi del PNRR pianteremo 500.000 alberi nelle tre annualità che servono proprio appunto per far parte per abbattere le isole di calore e contribuire alla lotta all'inquinamento e l'azione della piantumazione degli alberi fa parte nelle tre gambe del piano di adattamento climatico che il comune di Roma sta scrivendo con il suo direttore Edoardo Zanchini una direzione che fino ad oggi non esisteva e che è stata fortemente voluta dal sindaco Qualtieri proprio perché la scrittura del piano di adattamento climatico deve coinvolgere tutti e quindi ci deve essere anche un capofila che tenga conto di tutte le azioni che facciamo e poi il Colombo io sono stata nove anni presidente del primo municipio con il Colombo c'era un'altra la dirigente scolastica però adesso ricominciamo anche con loro abbiamo fatto tantissime azioni in questo senso che sta facendo Roma ecco Roma intanto la consapevolezza della possibilità di diventare una metropoli sostenibile attraverso la cura e lo sviluppo dei suoi alberi noi abbiamo 350.000 alberi da curare oltre a quelli che dobbiamo mettere attraverso la scelta che facciamo grazie all'aiuto del CREA all'aiuto dei ARSI all'aiuto di tutti del CUFA che ci ha dato anche i semi per piantare appunto mettere a dimora i semi per le piccole piantine per la riforestazione stiamo lavorando sulle piante autoctone sul cambiamento delle piante in città non vogliamo perdere lo skyline romano e quindi i pini che si sono ammalati nel centro di Roma verranno 50 ripiantati anche grandi ma in realtà noi dobbiamo capire qual è l'albero giusto per questo periodo e per questa terra perché se no noi non riusciamo sicuramente a fare questo cambiamento si è parlato di biodiversità stiamo lavorando sulla biodiversità soprattutto costruendo il parco fluviale del Tevere nel momento in cui il Tevere sarà tutto fruibile Roma avrà il più grande parco fluviale d'Europa e lì sappiamo che appunto gli alberi servono per pulire l'aria ma servono anche per pulire le acque noi stiamo lavorando in questo senso evidentemente con la regione evidentemente con le autorità di Bacino con il contratto di fiume perché il fiume non è un un compartimento a parte ma va integrato con tutte le competenze che ci sono ma lì noi avremo la possibilità appunto di anche di sviluppare la biodiversità abbiamo tante realtà che vogliono donare alberi il tema è la cura dell'albero perché la donazione non dico che è semplice perché farei torto a chi a quelle aziende a quelle ONG a quelle associazioni che si sono messe a disposizione col Comune di Roma per questo per la donazione ma noi dobbiamo diventare tutti custodi dei nostri alberi perché ultimo tema gli alberi oggi è la giornata dell'albero ma ancora non abbiamo potuto riniziare la stagione delle messe a dimora perché fa troppo caldo l'albero può essere messo a dimora quando ha perso già le foglie e quindi questo cambiamento climatico ci porta ad avere una stagione invernale molto ristretta e molto fredda quindi noi potremmo piantare da novembre a marzo ma ad aprile già arriva un caldo pesante quindi quelle messe a dimora alla fine della stagione delle messe a dimora rischiano di morire per il caldo che arriva tutto questo ci fa capire quanto il clima è cambiato e l'ultimo concetto mettendo insieme due interventi quello che diceva Alfonso il tema non è delle singole giornate di caldo il tema è interi mesi di cambiamento climatico il cambiamento climatico è arrivato e lì appunto la battuta le ottobrate romane le ottobrate romane si ricordavano perché erano dei giorni di caldo all'interno dell'autunno e quindi si riusciva fuori per quella giornata per quell'ottobrata non ottobrate intere noi in realtà avremo novembrate diceva il vescovo decembrate rischiamo invece e questo lo dico perché la consapevolezza che il clima è cambiato non è un problema che verrà ma che è un problema che esiste ci aiuta anche ad intervenire tutti immediatamente dovevamo intervenire ieri perlomeno interveniamo oggi grazie mi dispiace io vi lascio ma devo andare in Campidoglio alle undici per di più a sostituire anche il sindaco che non sta bene quindi non posso proprio rimanere con voi per la piattumazione ma verrò nelle vostre scuole e continueremo a collaborare insieme grazie 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 la sessora salvinia alfonso allora ha citato il mamiani io intanto ringrazio la dirigente scolastica del mamiani Tiziana Sallusti che ha fatto partecipare in una rappresentanza di responsabile ambiente delle classi del liceo mamiani accompagnati dalla professoressa Cosentino e da altri docenti quindi grazie per la presenza del Mamiani bene a salutare abbiamo parlato di primo municipio abbiamo ricordato anche l'esperienza del Colombo chiamerei Stefano Marina assessore all'ambiente del primo municipio se c'è non c'è Giuseppe non c'è l'assessore all'ambiente del primo municipio ah ok allora andiamo avanti perfetto allora entriamo in una fase estremamente importante mi farebbe piacere prendo un po' di tempo io ecco è tornato al fondo perfetto allora abbiamo da una parte volontariamente dall'altra ovviamente portati da questo collegamento con la giornata di San Francesco però il tema di come affrontare la multiculturalità la multiculturalità rispetto a temi così sensibili come sono il rapporto con il pianeta trovando un filo comune eccetera è materia importante materia credo estremamente rilevante nel non solo nel comune di Roma nel territorio di Roma ma a livello planetario è un uno dei riferimenti più importanti quello di ascoltare le sensibilità diciamo gli approcci spirituali ciò che anche le religioni le grandi religioni ci dicono rispetto a quello che è e deve essere il rapporto dell'uomo con l'ambiente in cui vive per cui io intanto chiamerei Rav Iaco Di Segni direttore dell'ufficio rabbinico della comunità ebraica di Roma che ovviamente lo diamo un applauso al quale più che una domanda ecco vorrei una suggestione tutto quello che abbiamo ascoltato i ragazzi i giovani le giovani generazioni un grande impegno che nasce e deve nascere su valori consolidati su valori condivisi dicevo al generale prima condivisione cultura consapevolezza è un po' un percorso che accomuna tutti soprattutto in una città peraltro così complicata com'è la città di Roma a lei la parola Buongiorno a tutti grazie innanzitutto grazie a chi ha organizzato questo incontro grazie agli studenti che hanno partecipato e grazie dell'invito per quest'anno appunto di estendere l'evento anche alle tre religioni di questa città le tre religioni principali si parla oggi di una festa festa degli alberi nelle scuole nell'ebraismo che io rappresento nella religione ebraica esiste una festa degli alberi esiste già una festa degli alberi generalmente cade nelle prime settimane di febbraio il calendario ebraico non è un calendario fisso quindi ci possono essere delle date diverse può essere fine gennaio o i primi di febbraio in quell'occasione in quella festa si usa proprio piantare degli alberi piantare alberi nella nella comunità nella città dove ci si trova proprio per valorizzare l'albero nell'albero che nella nostra identità culturale ma anche nella nostra vita l'importanza che hanno gli alberi per noi per noi stessi ma anche per le generazioni che verranno però oltre a questa festa degli alberi c'è un'altra festa in cui ci troviamo anche in questi giorni nella religione ebraica ed è la festa delle capanne oggi noi festeggiamo dura una settimana circa festeggiamo una festa che è chiamata la festa di Sukkot Sukkot sono le capanne e durante questa festa ci sono due due precetti importanti il primo è quello di abitare trasferirsi all'interno di una capanna vegetale cioè andare a mangiare possibilmente anche riposarsi durante la giornata dentro una capanna vegetale quindi immergersi dentro la natura sotto delle frasche sotto dei rami e all'interno di una di una capanna che è fatta di è fatta di rami è fatta di natura quindi è un precetto che ci serve a ricordare quanto noi abbiamo bisogno della natura nella nostra vita e l'altro precetto è anche legato al mondo della natura perché l'altro rito che noi seguiamo in questi giorni è quello di prendere quattro specie vegetali che sono la palma di cui abbiamo sentito prima la palma un ramo di una palma dei rami di mirto e di salice e un cedro il cedro è uno dei simboli anche in Calabria c'è una c'è una grande produzione di cedri proprio per questo per questa per questa festa questa è la festa della natura possiamo dire è una festa in cui noi entriamo all'interno di una di un mondo naturale ma prendiamo anche in mano queste specie queste specie vegetali proprio per per sicuramente ricordare a noi stessi quanto è importante l'ambiente intorno a noi ma anche per prendere le prendere anche nelle nostre mani una certa responsabilità verso il nostro presente e verso il futuro cercare di curare nel miglior modo possibile l'ambiente che abbiamo intorno a noi e come abbiamo detto e abbiamo sentito prima anche di piantare sempre più alberi nelle nostre città perché attraverso gli alberi noi possiamo tornare in un ambiente che è sicuramente più sano per noi e che ricorda a noi stessi anche le nostre origini grazie grazie a tutti grazie grazie a Rabiakov Di Segni direttore dell'ufficio rabbinico della comunità ebraica di Roma ecco l'ebraismo ci può essere veramente di guida nel rapporto con l'ambiente con la natura è un rapporto storico intriso insomma di grandi suggestioni e insegnamenti così come è la giornata di San Francesco lo ricordiamo insomma ancora una volta io poi particolarmente sono legato perché mi sono laureato per una tesi su la questione dei fonti francescani quindi figuriamoci allora io sono veramente felice di poter chiamare qui al podio sua cellenza bellissima Monsignor Fabio Fabio Fabiene Arcivesco di Montefiasconi vabbè però non è di Montefiasconi è l'Arcivesco di Montefiasconi non è di Montefiasconi sono titolare va bene allora è sbagliata la definizione se la prenda con lo stampatore se diceva una volta va bene buongiorno a tutti grazie per l'invito grazie a tutti gli organizzatori e grazie soprattutto a voi giovani che siete qui presenti io volevo iniziare l'intervento con due ricordi uno che è già stato richiamato dal presidente della società geografica riguardo alla festa degli alberi che si faceva credo negli anni 60 ed è un ricordo che è molto vivo in me perché durante le scuole elementari credo terza elementare o quarta ci portarono un giorno a piantare degli alberi davanti al piazzale delle scuole medie e io lo ricordo molto 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 bene quella cerimonia che fu anche molto suggestiva perché furono non un albero ma almeno circa sei alberi e ogni volta che io passo davanti a quelle scuole medie ricordo ancora quando da bambino appunto furono piantati quegli alberi poi durante l'inizio della mia formazione in quello che si chiamava il centro orientamento ragazzi che era quello che prima ancora si chiamava il seminario minore cercando mettendo a posto delle carte dell'epoca ho trovato una scheda che era intitolata così l'ecologia e siamo nel 1971 quindi già c'era un'attenzione da parte dei miei educatori che erano sacerdoti da parte delle scuole medie quindi anche dei docenti proprio su questo tema dell'ecologia quindi in qualche modo abbiamo precorso i tempi e forse già da quel tempo è nata questa sensibilità verso in me verso l'ambiente quindi questi ricordi sono veramente vivi in me e mi hanno portato anche appunto come dicevo a quella sensibilità verso la natura e verso gli alberi ora è stato ricordato diverse volte che oggi è la festa di San Francesco e come è stato anche ricordato dal credo sia la preside prima nelle scuole si legge l'enciclica del Papa laudato sì che ha voluto che ha voluto intitolare il suo messaggio riguardante l'ecologia proprio prendendo le parole di San Francesco tutti noi sappiamo che conosciamo il cantico delle creature che proprio inizia con la parola laudato sì e poi culturalmente ricordiamo che è anche almeno si diceva e si dice la prima poesia in lingua volgare riconosciuta oramai universalmente da tutti bene il Papa in questa sua enciclica che è il documento più alto che può fare un Papa ha proprio riproposto la questione ecologica e la questione ambientale non solo ai cristiani ma a tutta l'umanità perché ci dice con chiarezza e lo scrive nel primo paragrafo che la terra protesta e la terra è la nostra casa comune è il giardino come ci dice anche il libro della Genesi la Bibbia che Dio ci ha donato che è la creatura più bella che Dio ha creato ha fatto per noi ed è e l'ha affidata alla cura dell'uomo noi siamo chiamati a custodire questa casa comune e a coltivarla perché dobbiamo farla svilupparla dobbiamo fare la terra è viva e noi la dobbiamo far vivere ma rispettando appunto e custodendo quella che è la sua legge naturale che è l'ordine impresso appunto in tutta la natura e ci accorgiamo che ogni volta che l'uomo non rispetta la natura la violenta e allora noi dobbiamo veramente accogliere ascoltare il grido della terra che si esprime appunto per esempio attraverso i cambiamenti climatici che vengono dall'attività umana da un'attività sbagliata dell'uomo da appunto quasi una violenza che noi vogliamo fare perché ci crediamo siamo i padroni della terra ma non siamo i padroni siamo i custodi e dobbiamo appunto custodirla quindi poi c'è un altro passaggio molto importante in questa enciclica che ci propone la ecologia integrale è questo un messaggio nuovo che ha dato il Papa che cosa vuol dire ecologia integrale vuol dire ascoltare anche il grido dei poveri perché c'è un grande principio nell'enciclica che ci dice che nella realtà tutto è connesso tutto è in relazione e quindi dobbiamo sapere ascoltare anche il grido di quei paesi poveri di quella parte del mondo dove non si vive in modo umano perché la crisi la crisi ambientale e la crisi sociale sono parte di una stessa crisi dobbiamo quindi avere attenzione verso la natura verso l'uomo verso il creato e verso anche tutti i luoghi dove l'uomo vive per questo ci sono delle parti molto interessanti nell'enciclica che riguardano per esempio la città cioè gli spazi dove noi viviamo prima abbiamo ascoltato l'intervento dell'assessore ai giardini molto interessante cioè le nostre città gli spazi dove noi viviamo le stesse nostre case devono essere luoghi vivibili luoghi dove noi possiamo veramente vivere in modo umano com'è possibile vivere in città che so dove che sono piene di smog dove c'è l'inquinamento e noi stessi ci ammaliamo proprio perché tante cause delle malattie provengono dai dagli spazi dalle città dai luoghi noi viviamo che non sono per il nostro fisico che non sono per la nostra salute fisica ecco l'importanza allora dell'albero e proprio l'albero con le sue radici che affondano nella terra ci ricorda proprio l'importanza della terra di prenderci cura della terra ma nello stesso tempo come ci indica Papa Francesco prenderci cura anche dei poveri della terra perché tutti abbiamo diritto di vivere in modo pienamente umano i diritti dell'uomo sono uguali per tutti e non è che ci riconosce lo Stato sono nostri sono parte della nostra umanità e per questo dobbiamo lavorare perché ogni uomo ogni donna in ogni parte della terra possa vivere dignitosamente secondo i propri diritti è stato detto anche prima che proprio per qualche momento verrà resa pubblica come ha detto Alfonso la esortazione apostolica cioè un documento di rango minore rispetto all'enciclica che attualizza al nostro oggi la laudato si e questa esortazione apostolica questo nuovo documento del Papa si intitola laudate deum cioè laudate Dio vedete laudato si San Francesco laudate deum perché siamo chiamati veramente a lodare Dio per la bellezza della natura per la bellezza della terra per tutte le creature compreso l'uomo e questa laudate deum è stata viene pubblicata dal Papa in vista della Coppe 28 come già è stato detto e che cosa non è che svelo nessun segreto perché oramai insomma già era un po' anche sulla stampa in questo nuovo testo Papa Francesco continua a riflettere sull'ecologia integrale e tratta alcuni temi come la giustizia ambientale questo è molto importante perché non c'è soltanto una giustizia umana ma la giustizia ambientale sarebbe molto interessante nelle scuole fare anche una ricerca e approfondire questo tema poi proprio perché l'ecologia integrale tratti il tema della pace noi siamo in guerra all'Europa mai avremmo pensato che in Europa ci fosse una guerra così come c'è oggi quando io avevo la vostra età non si pensava per niente alla guerra anzi si aspettava il 2000 gli anni 2000 come una grande era di pace e invece ci ritroviamo con la guerra quasi dentro casa diciamo nella nostra Europa quindi il Papa riflette sulla pace sulla mercificazione dell'acqua questo è anche un tema molto importante il Papa tratterà di questo l'acqua che è un bene primario l'acqua è vita senza acqua non si vive e invece l'acqua sta diventando purtroppo una una merce e poi c'è ancora una volta il richiamo alla conversione ecologica che già era stata affrontata dal Papa nella Laudato Si cioè veramente dobbiamo cambiare stili di vita dobbiamo trovare un modo per poter vivere in modo secondo la natura diciamo così secondo quello che è che sono le nostre necessità umane in rapporto con tutte le altre creature poi dobbiamo c'è un richiamo per imparare a praticare il rispetto ecologico e il Papa indica quattro vie cioè un rispetto verso Dio che è il creatore verso i nostri verso gli uomini verso i nostri fratelli di oggi e anche quelli di domani e l'enciclica cioè l'esortazione apostolica scusate guarda soprattutto a voi giovani perché è rivolta sì agli adulti ma è rivolta in particolare ai giovani dicendo noi oggi noi adulti e tutte le istituzioni dobbiamo consegnare alle nuove generazioni una casa comune in cui possano vivere dignitosamente quindi tocca quella che è la nostra responsabilità di adulti sia in campo religioso ma anche in campo politico e in campo sociale deve essere veramente un impegno di tutti per poter consegnare a voi ragazzi e ragazze un mondo nuovo e anche i vostri figli quindi l'impegno di oggi per domani ma anche per dopo domani e poi un impegno verso tutta la natura e come e verso noi stessi perché abbiamo dobbiamo vivere come dicevo dignitosamente in questo giardino che è la terra vorrei concludere unendomi in qualche modo al nostro rappresentante della religione ebraica perché nella Bibbia e nei salmi ci sono delle espressioni bellissime che cantano proprio la bellezza della natura per esempio c'è il Salmo 64 dove il salmista canta la bellezza proprio di tutta la realtà naturale dicendo che le greggi di frumento si ammantano le valli tutto canta e grida di gioia proprio la natura è questo canto di gioia che si eleva a Dio creatore e ancora il Salmo 19 che dice i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento e in questi salmi noi sentiamo anche l'eco del cantico delle creature di San Francesco che oggi celebriamo e onoriamo grazie 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 eccellenza consiglio Fabio fa bene segretario del di Castero per le cause dei Santi questo va bene giusto questo è corretto Montefiasco peccato perché Montefiasco c'è una storia ecco ecco Montefiasco insiste in un territorio bellissimo come quello del lago di Bolsena abbiamo chiarito tutto abbiamo ovviamente ragazzi vi chiedo di fare attenzione alle parole che vengono dite perché al di là io capisco che a volte però al di là di alcuni passaggi estremamente legati a temi religiosi è in queste culture nelle religioni abramitiche che si sviluppa la nostra coscienza diciamo di cittadini del mondo diversa da quella di altri è proprio questo far parte di una di una trama comune che ci consente di essere oggi qua ovviamente gli interventi li abbiamo fatti come da consuetudine secondo ordine di antichità delle religioni abramitiche quindi a questo punto io sono proprio per parlare peraltro di un'altra cosa importante che c'è a Roma che è la la grande moschia di Roma un'altra grande realtà se vogliamo anche una realtà ecologica importante nel territorio chiamo l'imam della grande moschia di Roma Nader Akkad grazie di essere con noi io peraltro ho sentito parole come acqua come attenzione al pianeta eccetera io ho vissuto per tanti anni della mia vita in Andalusia soprattutto a Granada per cui posso testimoniare quanto l'Islam abbia ossessivamente costruito un rapporto se vogliamo con l'acqua in primis ma con la natura con il ritmo delle stagioni agricole quindi ha costruito veramente un intramato culturale una trama culturale che si diffonde dall'alto in basso senza soluzione di continuità invito tutti a regarsi a Granada visitare la Lambra per scoprire paradisi da questo punto di vista però al di là dello spot che mi permetto di fare che ho tanti amici ancora e quindi può essere utile una ventata di turismo in questo momento anche se non ne hanno bisogno quello che è importante per quanto ci riguarda è concentrare l'attenzione su questa comunanza di valori questa vicinanza di valori ma soprattutto su quello che poi il territorio riesce a costruire in termini di promozione di una nuova visione del mondo abbiamo sentito la laudato si la laudate deum che attendiamo abbiamo sentito la grandissima rapporto storico con la natura storico cioè religioso con la natura della religione israelitica del rapporto diciamo dell'ebraismo con la natura e dal vostro punto di vista cosa portiamo soprattutto in una città come Roma una città complessa una città difficile però in generale anche come come rapporto l'albero che cosa cosa rappresenta grazie Gianni vorrei innanzitutto portare i saluti i saluti del consiglio di amministrazione della del centro esamico dell'Italia grande moschia di Roma il presidente Ascanio per per questa giornata delle feste degli alberi e a tutti voi studenti che molti di voi sicuramente hanno visitato perché noi riceviamo tante scolaresche alla grande moschia di Roma e Gianni colgo questo tuo invito di parlare anche della grande moschia di Roma e del del concetto dell'albero voi sapete che la grande moschia di Roma è la più grande moschia d'Europa e l'istituzione religiosa islamica più grande d'Europa nata e pensata e concepita come un giardino un architetto proprio qua di Roma un architetto romano si chiama Paolo Portughesi questo architetto cristiano cattolico ha saputo dare alla nostra comunità musulmana romana ma direi italiana ed europea un bellissimo luogo di culto e di cultura e di pace chi entra alla grande moschia di Roma che ha avuto modo di visitarla all'ingresso vede la presenza di due palme guardate la palma ha un albero molto particolare perché l'albero della palma non contiene ambedue i sessi sono due separati quindi c'è una palma maschio una palma femmina all'ingresso alla grande moschia di Roma troviamo la palma femmina che porta il frutto i datteri e la palma maschio manda i pollini all'ingresso troviamo questi due un albero femmina un albero maschio per ricordare che come l'albero il modello del credente nell'islam così come c'è un credente e una credente davanti l'ingresso per dare ai nostri visitatori 24 ore su 24 ore 365 giorni all'anno i benvenuti chi entra all'interno della grande mosca di Roma trova questo giardino questa foresta di palme perché Paolo Portoghesi si è riuscito con questa sua architettura del dialogo interreligioso architettonico a unire tutti i concetti della della cultura e della civiltà islamica delle moschee anche di Alhambra unire le fontane le cascate l'acqua al giardino lui si è riuscito a suddividere ogni pilastro come ogni tronco d'albero in cinque tronchi per ricordare anche i cinque pilastri della religione islamica e questi tronchi si introcciano insieme come rami è un un concepimento del concetto del paradiso perché voi sapete che il paradiso stesso e la gianna viene chiamato è proprio basato sul concetto del giardino e non possiamo in questo senso dimenticare che alcuni concetti base che legano il giardino nell'islam c'è un detto profetico dice che tutto quello che è attorno a voi è una comunità come voi specialmente le comunità degli alberi cosa vuol dire essere in relazione con una comunità come noi certamente ci relazioniamo con qualcosa che è di diverso ma che abbia stessi diritti quindi gli alberi hanno diritti su di noi questo detto profetico dice sul concetto della carità perpetua perché voi sapete c'è una carità che finisce lì se uno dà una elemosina finisce lì ma ci sono delle elemosine perpetue nel tempo o della carità perpetua questo concetto di Saddakajari e dice il profeta Muhammad dice chi semina un albero e mangia da questo albero un essere umano un animale o qualsiasi essere che si riposa sotto la sua ombra viene considerata per quello che ha seminato una buona azione perpetua una carità perpetua nei tempi guardate che bello cioè con questa giornata delle feste voi se seminate un albero questo cresce per voi diventa una buona azione perpetua nel tempo anche dopo la nostra scomparsa e questo è molto importante sul concetto poi la palma stessa tutta la mariologia islamica Maria nell'islam voi sapete io sono il fondatore di una commissione mariana musulmano cristiana c'è la mariologia islamica tutta la mariologia islamica è si è riposata Maria con Gesù bambino sotto una palma la palma ha dato a lei l'ombra l'ombra vuol dire la misericordia di Dio ha nutrito con i datteri anche Gesù piccolo e qui vorrei concludere con quello che prima si è ricordato noi abbiamo anche delle conferenze per l'ambiente questo quest'anno il COP28 sarà negli Emirati Arabi Uniti sarà a fine novembre ci sarà una nostra delegazione nostra e dei francescani perché ci lega molto noi musulmani la spiritualità musulmana alla spiritualità francescana c'è tanto legame il ministro generale Massimo Fusarelli è venuto a visitare la grande musulmana di Roma con tutti i frati e sorelle francescane proprio per ricordare 800 anni dell'incontro di San Francesco che oggi è la giornata di San Francesco il patrono d'Italia ecco 800 anni questo suo incontro con il sultano il Malik e il Kamel in questa occasione abbiamo con i frati francescani abbiamo fatto degli patti degli accordi di cui un accordo forse a livello mondiale è il primo che si sente è il primo patto per costituire la comunità energetica interreligiosa voi sapete che oggi anche l'energia è molto importante donare energia molto importante e quindi nella spiritualità francescana musulmana di produrre energia per la pace e donare energia diventa fondamentale e abbiamo fermato questo patto in quanto la grande musea di Roma con il progetto di Paolo Portuguesi con queste superficie piane metterà i pannelli solari e con la PUA che è la Pontificia Università Antoniana dei frati francescani come unica comunità energetica mette insieme l'energia consuma quello che serve e dona il resto al territorio mi è piaciuto molto perché il Sole 24 Ore e la Repubblica hanno ripreso questo patto mondiale e hanno sentito al COP28 anche di questa nostra novità italiana di cui essendo quest'anno sarà la prima volta anche nei COP uno stand specifico per le fedi cioè come le religioni sono impegnate nell'ambiente questo incontro sarà ad Abu Dhabi il 5 e il 6 novembre quindi anticipa il COP28 e nel quale parleremo anche con loro di dare questo modello italiano di come la fraternità si può costruire dal basso e come riusciremo a trasformare il nostro dialogo che voi anche fate certo dialogo anche qualche volta il dialogo incartato lo trasformiamo in dialogo incarnato cosa vuol dire il dialogo della vita il dialogo di stare insieme di salutare gli amici le mattina e di sapere anche come riuscire ogni giorno a diventare un elemento verde per il nostro globo per la nostra terra grazie 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 all'imam della grande moschia di Roma da Raccad e adesso ragazzi fra poco andiamo a come dice a piantare andiamo a mettere a dimora un albero quindi ci siamo quasi ultimo intervento in programma intervento importante perché poi l'agricoltura è elemento essenziale di ogni ragionamento di rapporto dell'uomo con il pianeta perché è l'uomo che interviene quindi chiamerei Nicolò Sacchetti presidente col diretti Roma che ci raggiunge per un saluto finale poi però veloce lettura era rimasto incantato dalle notizie bellissime di questo grazie innanzitutto ringrazio all'amico Alfonso Pecoraro Scagno per questa opportunità tutte le autorità religiose civili e militari ringrazio ragazzi per la pazienza immagino che siete estremati vi capisco spero che vi rendiate conto dell'opportunità che avete avuto perché non è scontato nemmeno per noi avere l'occasione di parlare con autorità così importanti e persone che conoscono la materia così a fondo e la vivono quotidianamente quindi è una grande occasione vi porto i saluti del presidente Granieri vicepresidente nazionale della Coldiretti che purtroppo ha avuto un impegno stiamo allestendo il villaggio di Coldiretti posso fare pubblicità veniteci a trovare perché è veramente una tre giorni 13 14 15 bellissima di natura di campagna di ambiente di territorio che merita assolutamente soprattutto per voi giovani ha avuto degli impegni istituzionali col prefetto ecco io credo che questa sia veramente una giornata importante perché sono passati 23 anni eppure io sono convinto che tutti voi come tante persone che vivono nella città quotidianamente danno molto per scontato gli alberi il verde le piante mia moglie per prima prima di sposare un agronomo un agronomo da una sorpresa vedere questa differenza esiste così come scommetto che abbiamo parlato dei patriarchi a pochi metri da qua alle porte all'ingresso del palatino c'è un albero di giuda meraviglioso pluricentenario Cercis Siliquastrum per voi che dovete studiare ma scommetto che neanche te lo conoscevi ne hai dimensione invece quando fiorisce è meraviglioso si nota ed è una pianta centenaria che noi non notiamo ecco in 23 anni però credo che il nostro territorio le problematiche siano in effetti cambiate l'attenzione è sempre la stessa dobbiamo sempre avere attenzione per le piante ma i problemi si sono moltiplicati perché noi abbiamo da una parte bisogno dei grandi frigoriferi dei grandi polmoni del nostro mondo per trasformare il nostro ambiente dall'altra parte adesso da qualche tempo a questa parte abbiamo bisogno di preservarli che è un altro lavoro molto più difficile certamente avrete notato la devastazione delle pinete dell'area di Ostia Castelporziano tutta quell'area lì il nostro territorio è completamente trasformato quindi noi per generazione e generazioni abbiamo piantato pini quelli sono pinete del 1700 1600 noi abbiamo dato sempre per scontato e ci sarebbero sempre state che avrebbero continuato ad esistere e invece non è così il clima non solo è cambiato abbiamo bisogno di più piante ma è anche cambiato tutto il paesaggio il panorama per noi è un patrimonio di cultura e di storia voi forse neanche ci fate caso e forse neanche lo noterete però è un fatto di grandissima importanza per tutti noi quindi abbiamo ancora più bisogno di attenzione verso le piante e gli alberi del nostro territorio ecco gli agricoltori diciamo siamo passati dal cielo alla terra bassa bassa perché gli agricoltori sono terra terra per l'appunto però sono i primi investiti dai grandi cambiamenti climatici i primi a soffrirne le conseguenze e i primi a essere a contrastarli perché siamo noi i custodi del territorio i custodi della biodiversità i custodi dell'ambiente e quindi per noi questo giorno è particolarmente importante io ad esempio giusto così per darvi una nota di colore di storia sono presidente di un consorzio e bonifica il consorzio e bonifica qua di Roma che è un ente pubblico che gestisce l'acqua l'acqua buona e l'acqua cattiva quindi l'acqua di irrigazione noi peschiamo l'acqua dal Tevere e la distribuiamo per 30.000 ettari su tutto il territorio quindi tutti i prodotti agricoli che avete voi passano dalla nostra gestione perché l'acqua è sempre più necessaria ma anche l'acqua cattiva l'acqua che invade i nostri territori che producono alluvioni e devastazioni pensate che io sono responsabile di un impianto idroforo che è quello che asciuga i terreni che sta a Focene a fianco dall'aeroporto di Fiumicino e le pompe sono ancora quelle originali del 1889 e noi l'aeroporto di Fiumicino lo teniamo all'asciutto ancora con quelle pompe quindi per dirvi il panorama gigantesco che questi cambiamenti climatici e l'esigenza di avere appunto una parte forestale molto significativa perché sapete benissimo che non solo in città raffrescano ma hanno anche un ruolo importantissimo nel mitigare la devastazione delle alluvioni perché l'acqua che passa attraverso l'ichiome penetra più facilmente nel terreno e quindi produce meno danni al territorio ecco quindi io vi ringrazio davvero perché è stata un'occasione bellissima una giornata splendida grazie davvero grazie grazie Nicolò Sacchetti presidente di Coldiretti Roma allora siamo andati dal cielo alla terra ma insomma è un movimento circolare diciamo quindi con la sua circolarità sì adesso stavo per dirlo c'è lo spazio prima di andare a piantare l'albero abbiamo le domande le vostre domande quello che vi ha suggerito questa giornata diciamo possiamo procedere con due rappresentanti per ogni istituto e due domande e due risposte Massimo così velocizziamo no? non le facciamo le domande? facciamo come le conferenze stampa di modo da adesso pensavamo agli studenti in realtà io sono studenti a vita quindi no volevo fare mi presento sono Razio Lagrega sono il curatore della biblioteca della società geografica sono sono un geografo tradizionale classico mi volevo riallacciare all'ottimo oratore precedente quando ha citato il Cercis Siliquaster famosissimo che è qui a due passi volevo a tale proposito ecco rammentare l'occasione è veramente chiotta questi questi giovani che sono che assorbono sicuramente le cose belle vi volevo appunto raccontare una leggenda a proposito di quello che normalmente viene conosciuto come l'albero di Giuda e inizialmente secondo la leggenda i fiori dell'albero di Giuda erano bianchi e dopo il come dire dopo il suicidio di Giuda secondo la leggenda i fiori da bianchi sono diventati rossastri ecco perché si chiama albero di Giuda in Italia ma ad esempio in Francia non si chiama albero di Giuda ma si chiama albero di Giudea tutto qui grazie grazie bella suggestione grazie domande allora sì anche uno per istituto così magari avete domande professori spronate i vostri ragazzi se non siete ci sono ragazzi se avete qualche domanda ovviamente non è un obbligo se qualcuno ha una cosa da chiedere o da suggerire alza la mano ve lo dovete preparare prima le domande si fa così ecco c'è uno eccolo vieni qui vieni qui vieni qui se c'è qualcun altro ascoltiamolo ascoltiamolo però non fate allora vieni 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 qua e non ci abbiamo altri microfoni quindi ti diamo il palco e ci dici l'istituto esatto il nome istituto istituto Terenzio Mamiani e volevo chiedere insomma comunque intanto quanti alberi servirebbero per far diventare Roma una città diciamo sostenibile e cos'altro diciamo si potrebbe attuare in breve termine diciamo questa è una bella domanda ci vuole l'assessore per primo di risponderti noi c'è qualcun altro così prendiamo prima le domande e poi diamo la risposta le varie risposte qualche altra domanda ecco c'è un'altra domanda se puoi venire di spalzare una mano di una ragazza penso che possiamo anche se non ce ne sono altre qualcuno dei tuoi sì sì sempre sul podio dite anche il nome ovviamente l'istituto Emma Vettacchiola sempre dall'istituto Terenzio Mamiani e volevo chiedere qual è l'esatto funzionamento dell'impianto di drogoro che è stato citato poco tempo fa perché ero abbastanza incuriosita quindi per scoprire un attimo meglio studentista di ingegneria per il prossimo allora c'è altro? ragazzi qualcuno l'abbiamo trovato bravo mettiamoci a sfida bravo senza senza ragazza no però non è si può anche imbarazzare una relazione ragazzi silenzio silenzio allora la mia domanda è in che maniera l'albero di qual istituto sei? sono dell'istituto Cristoforo Colombo perfetto la mia domanda è ma in che maniera l'albero unisce le tre religioni? in che maniera? una bella domanda unisce le tre religioni va bene io penso che abbiamo toccato tre temi penso che come domanda ci possiamo fermare qua no? no c'è un'altra l'ultima vieni 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 percorri velocemente il corridoio tanto sei a passi eh affalcate io le seguo io volevo chiedere sono dell'istituto Terenzo Lumiani e volevo chiedere in che modo diciamo che le religioni dato che comunque i dati che ci stanno adesso per il seguito di certi cuti vengono addirittura sprecati sprecata molta energia in che modo la religione possa aiutare per riguardo alla sostenibilità dato che appunto spesso invece porta uno spreco di energia no ma in che in cosa lo vedi lo spreco di energia dove lo vedi lo spreco dalla luce sì sì dici no diciamo per per effettuare vari magari cose sia a livello estetico religioso che no tu dici tipo le feste tipo feste le luminarie che non so cose che fare pratiche religiose che poi sono più di varie religioni che appunto è vero non ci sono vabbè quello c'è qui ancora brucia quindi voglio allora se non ci sono altre domande io sì allora abbiamo toccato quattro temi uno diverso dall'altro il primo riguardava il territorio di Roma io francamente non ho una risposta numerica Alfonso che ha fatto il ministro e sicuramente conosce meglio la materia penso ci potrà dare un contributo sì 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 ma guarda allora innanzitutto mi fa piacere di queste domande queste domande e credo che con la preside magari invitando anche altre scuole presso l'istituto Colombo potremmo avere l'occasione di fare anche altri momenti di incontro perché poi è importante io tra l'altro proprio ieri ho cominciato l'altro ieri lunedì e martedì il mio corso al Bicocca io insegno alla laurea magistrati turismo territorio sviluppo locale sia là sia a Roma sia a Napoli e ho notato e anche studenti molto più grandi di voi perché sono studenti di una magistrale quindi sono ventenni e non è che avevano tutti gli elementi vediamo per scontato che tutti sanno più o meno cos'è il cambiamento climatico la conversione ecologica non è così perché molte volte ci sono notizie flash alle quali non corrisponde poi dettaglio quindi uno vede solo titoli e non sa che cosa c'è dietro il titolo quindi le domande che avete fatto denotano comunque un'attenzione allora punto uno Roma Roma è molto grande Roma è il territorio comunale più grande non solo d'Italia ma uno dei più grandi d'Europa lo sa bene anche la senatrice De Petris che prima di essere senatrice è stata assessore al comune di Roma in particolare anche al verde tra le altre cose allora è evidente che l'assessore Alfonso ha parlato di piantare 500 mila alberi e di averne in gestione 350 mila è evidente che se davvero si riuscisse in tre anni a piantare poi dipende che alberi pianti che altezza hanno se sono abbastanza grandi se sono piccoli se sono piccolissimi allora è evidente che l'assorbimento della CO2 e l'ossigeno cambia a seconda anche della specie e io sono contento che l'assessora si è rivolta al CREA che è l'istituto di ricerca del ministero dell'agricoltura che è un specie di CNR specializzato anche in questo quindi è evidente che si tratta di piantarne tanti ma si tratta poi di fare la manutenzione ho sentito l'accenno che faceva Nicola ai pini io sono intervenuto ho chiesto interventi sui pieni a ombrello perché in molti casi ci sono i rimedi ma ci vuole la velocità nell'intervenire perché è chiaro che tu hai sistemi di cura ci sono anche patologie nuove perché voi sapete che insieme al cambiamento climatico arrivano parassiti specie aliene che magari contaminano e attaccano alcuni alberi e alcuni alberi soffrono di più magari per il cambiamento anche del clima quindi questo è però che Roma sia una città che ha molta molta area verde questo è importante dobbiamo fare in modo che si moltiplicano gli interventi ma poi l'altra cosa che io dico perché ho lanciato una rete che si chiama che è una sfida anche una rete che si chiama eco digital noi dobbiamo fare la transizione ecologica insieme a quella digitale che voi conoscete bene perché significa che noi dobbiamo anche monitorare una volta che ho messo gli alberi oggi ho le tecnologie per cui dai satelliti e dai droni posso costantemente guardare la situazione la sofferenza di ogni singola pianta quindi oggi io tra intelligenza artificiale sistemi satellitari eccetera ho la possibilità addirittura di coinvolgere i cittadini che possano sapere quali sono gli alberi della loro zona e magari dare anche una mano alla manutenzione perché a volte basta innaffiare a volte basta esserci attenti ci sono tante cose che possiamo fare e le possiamo fare questa è una domanda sulle religioni non so se stocca a me rispondere io credo che abbiamo il dato reale sulle religioni senza andare a fare un dibattito ad hoc lo faremo la prossima volta ci inviterà l'imam alla moschea allora quello che possiamo fare giusto per andare come dire anche allora è evidente che tutte le regioni hanno un istinto positivo cioè non è che nascono per fare la guerra e fare i disastri poi sono state utilizzate volta per volta dai generali cattivi non dalle generalesse buone o da alcune situazioni politiche per usare la religione come vessillo per fare le guerre ma non è che nascono come per fare le guerre nascono tendenzialmente come vedete per il giardino dell'Eden l'amore per la natura eccetera quindi noi dobbiamo spingere e non a caso parliamo dell'enciclica del laudato si che non è l'enciclica che chiama alla guerra santa e alle crociate che è un altro tipo di storia che è esistita di cui non è che noi ci dimentichiamo la storia però per fortuna oggi c'è una voglia interreligiosa ecumenica tra le varie religioni di spingere perché tra l'altro la sopravvivenza del creato che possiamo chiamare ecosistema forse il termine più semplice perché il pianeta esisterà lo stesso anche senza gli esseri senza noi altri noi quello che stiamo cercando è di mantenere delle condizioni di vivibilità sul pianeta cioè vorremmo cercare di continuare a vivere non dico nel paradiso terrestre ma quantomeno in una condizione di vivibilità quindi questo è l'aspetto positivo le comunità energetiche a cui faceva riferimento l'imam fatte insieme sono esattamente la preoccupazione delle chiese anche delle strutture fisiche di diventare anche loro sostenibili l'ha già fatto il Vaticano l'aula nervi è il più grande impianto solare fatto a Roma sull'aula delle udienze papali ed è un impianto di energia solare quindi si sono i problemi che le religioni possono spregare però direi che non è che spregano solo le religioni anche non le religioni se uno va in discoteca la discoteca balli e consuma energia se mettiamo delle pedane magari che con il ballo recupera energia potremmo fare delle ecodiscoteche quindi il concetto è sempre usare la tecnologia in modo io le ho viste fatte non nelle ecodiscoteche però la capacità di prendere energia dal movimento così come in una palestra se tu fai palestra e c'è l'impianto che recupera l'energia quando fai la ciclette o fai il tapirulan puoi recuperare addirittura cioè ci sono tante forme ormai con le nuove tecnologie che ci permettono di recuperare energia siamo capaci lo vogliamo fare dobbiamo metterci in positivo e vedere gli aspetti migliori delle persone e non quelli negativi grazie e poi c'è l'idropora sull'idropora devo dire la verità non so la ragazza come sia ma anche io fui incuriosito quando scoprì questa cosa delle idropore perché se no l'aeroporto di Fiumicino sta sott'acqua raccontaci sull'idropora cercherò di essere breve perché siete cotti però è un mondo affascinante molti attribuiscono la bonifica agricola dei nostri terreni all'epoca fascista quindi la prima metà del ventesimo secolo in realtà qua a Roma abbiamo cominciato molto prima e per l'appunto l'impianto idroforo di Focene insieme a quello di Traiano è un impianto vecchisse appunto fine ottocento addirittura invito i professori a venirci a trovare perché facciamo anche delle gite faremo la gita di trovare effettivamente un mondo affascinante che io per primo non conoscevo prima di essere messo in questo tritacarne di responsabilità era un mondo che non conoscevo ma è un mondo affascinante considerate che tutta l'area di Ostia Casal Palocco Isola Sacra Fiumicino è l'area a rischio idraulico più alta d'Europa perché noi abbiamo costruito sulla foce di un fiume sotto il livello del mare e quindi tutte quelle aree aeroporto di Fiumicino comprese sono tenute all'asciutto tramite una serie di reticoli di canali che portano l'acqua in eccesso a questi impianti idrofori che non sono altro sono belli che le pompe non sono altro che delle enormi pompe 16 metri cubi secondo cioè sono un numero spaventoso che pompano l'acqua da sotto dal livello basso dove sta l'acqua e la pompano a mare nel livello più alto e la mandano a mare e quindi questo fa sì che tutto un territorio che normalmente sarebbe una palude pantano tutti questi toponimi così che sono evidentemente segno di un territorio paludoso vengono prosciugati e sono resi vivibili proprio attraverso l'azione di questi idrofori e sono tante sul nostro territorio sono misconosciute ma senza di queste saremmo in un mare di guai veniteci a trovare bene allora abbiamo anche fatto allora vogliamo scendere allora scendiamo adesso no Giuseppe scendiamo allora scendiamo ordinatamente io vi dico solo che c'è pervenuto scusate un attimo solo c'è pervenuto un messaggio da parte del presidente della commissione cultura scienza e turismo no cultura scienza della camera l'onorevole mollicone che ribadisce all'importanza del dialogo tra sostenibilità e scuola e che pubblicheremo poi insomma sui siti delle fondazioni Univerde possiamo scendere ordinatamente ordinatamente per le scale e maggio